Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video collaborazione con Pandal Selected. Io farò questo anello a uncinetto, vedete, e poi andremo a mettere le perline sopra. E queste perline sono di questa serie qua, prese appunto su Pandal. E il codice è questo. E io ho scelto appunto questo colore. Bene, cosa ci serve? Il cotone. Io non posso dirvi che filato e che numero è perché era un cotone per uncinetto che avevo in casa. Quindi ho perso le targhette, non so dirvi quale misura, grossessa e quant'altro. Comunque l'importante è che non sia esageratamente grosso e van bene tutti i cotoni. Quindi voi, se avete in casa qualche cotone per fare uncinetto, potete usare quello. Io andrò a fare... Ah, poi ci serve, scusate, del filo di nylon che a me serve per andare a mettere le perline, così non si vede il filo. E poi comunque quello è troppo grosso e non passa nei buchi della perlina. Quindi ho dovuto fare in questo modo proprio per quello. Sennò avrei usato anche il cotone della lavorazione. E poi, ah, scusate, un altro ago, questo qui per mettere le perline nel filo di nylon, vedete, perché ho usato un ago da appunto perline perché altrimenti non passavano. L'ago della lana non passava, però ci serve anche un ago della lana che andremo a cucire poi il nostro anello. L'uncinetto io uso l'1,75, poi un paio di forbici e nient'altro. Iniziamo la lavorazione. Premetto, noi io farò l'anello doppio, cioè questa strisciolina qui sarà doppia, quindi ne andrò a fare un'altra così, ve la misurate poi secondo il vostro dito e ne fate due. Per farla uguale dovreste contare i giri, però io vado ad occhio, i giri che abbiamo fatto. Io vado ad occhio perché faccio prima, non mi ricordo mai comunque i giri che faccio. Lo faccio doppio perché questo è un anello che ho fatto e ho fatto semplice, anche se questo è un filato molto più grosso di questo, però comunque tende, quando io me lo metto, tende a piegarsi, vedete, un po' arrotolarsi. Così non è che sono molto soddisfatta. E questo essendo ancora più morbido, ho deciso appunto di fare così. Quindi faremo un'altra strisciolina così. E adesso vi faccio vedere come. Io preferisco lavorare, ho fatto quattro catenelle e lavorare la circonferenza, però voi potete fare anche con le catenelle la circonferenza e poi lavorare l'altezza. Io invece ho preferito fare in questo modo qua. Quindi prendo il mio cotone, la parte corta da questa parte è quella che è attaccata al gomitolo dall'altra parte. Facciamo il nostro capietto. Allora, se vi è fatica a fare così, basta che arrotolate, fate un nodo in questo modo, vedete, e portate su. Questo è molto più semplice. Bene, ora faremo quattro catenelle. Quella che è adesso qui non conta, quindi andate a contare adesso in avanti. Allora, uno, due, tre, tre, quattro. Io faccio anche la quinta perché mi devo girare e salto la maglia dove ho fatto adesso e vado nell'altra. Però non prendo da questa parte in alto, prendo dalla costa bassa, così, e faccio una maglia bassa. Prendo l'altra, vedete, noi abbiamo sopra e sotto, non so se si vede, vedete, vedete, io prendo dal di qua e faccio un'altra maglia bassa. Due, tre e quattro. Giro il lavoro e faccio altre quattro catenelle, maglie basse, sempre prendendo dalla maglia sotto, vedete, da questa maglia qua, non so se si vede, vedete qui, e faccio altre quattro maglie basse. Uno, due, tre e quattro. Giro il lavoro e faccio ancora quattro, sempre prendendo questo buco qua, uno, due, tre e quattro. Vedete? E vado avanti così fino alla mia circonferenza e deve essere comunque uguale all'altra, quindi ci vediamo dopo. Bene, ora ho finito l'altro, vedete, e andiamo a misurare se sono uguali. Qui non taglio il filo, mi raccomando, lo lascio attaccato, perché dobbiamo andare a cucire tutto attorno. Quindi vediamo se è la stessa misura. È uguale, vedete? Ora prendo questo filo, la continuazione del mio lavoro, prendo l'altra strisciolina e la metto in questo modo, scusate, e la metto in questo modo qui. Questa la metto davanti, poi tiro il filo, e vado a prendere anche quella davanti, ogni maglia e chiudo con una maglia bassissima. Ok? Faccio così, vedete? Metto pari, prendo la prima maglia e chiudo con un punto bassissimo. In questo modo. Mi raccomando, fate attenzione a prendere tutte e due le parti. Quindi vado qua, prendo, vedete, anche la parte sotto, tiro sul filo e chiudo con una maglia bassissima. Prendo davanti e di dietro, vedete? Prendo, tiro il filo e chiudo con una maglia bassissima. Ancora, prendo davanti e dietro, tiro sul filo e chiudo con una maglia, oddio, scusate, ero fuori campo. Ancora, prendo davanti e dietro, tiro sul filo e chiudo con una maglia bassissima. Un'altra volta, prendo da la maglia sotto, prendo anche quella dietro, tiro sul filo e maglia bassissima. e facciamo così per tutto il contorno della nostra striscioletta. Bene, sto finendo di attaccare le mie due striscioline. Questo è, vedete, gli ultimi giri. Prendo e maglia bassissima. Prendo e maglia bassissima. Abbiamo finito e abbiamo attaccato. Mi raccomando, mi sono dimenticata di dire, quando fate le maglie bassissime tenete un po' lento perché il lavoro si può restringere. io mi vado a misurare ed è tutto ok. Ora dobbiamo cucire per fare l'anellino. Quindi vado a chiudere il filo, taglio e faccio il mio nodino per fermare il tutto. e ora andiamo a chiudere in questa maniera qua. E qui ci serve l'ago della lana. Questo possiamo tagliarlo perché poi ci dà fastidio. Andiamo a prendere le due parti in questa maniera e cuciamo attraverso le maglie in questo modo. Così vedete? Così. Così. Non vi preoccupate se viene grosso perché tanto qui poi andrà coperto con le perle. Così. Ai ai ai. Andiamo a chiudere bene queste parti qui in modo da non lasciare questi spazi qua. Quindi facciamo così. Così. Andiamo dall'altra parte perché ho lasciato questo spazio. vedete? Ora fermo il filo ora io lascio questo filo qui perché dobbiamo attaccare la base per fare per mettere i cristalli. Uno può decidere di metterli anche qui sopra io invece voglio fare una base tonda come vedete questo qua sotto non so se si vede giriamo l'anello vedete vedete che c'è una base sotto io preferisco fare la base e inserire poi i cristalli nella base quindi lasciamo il filo lungo perché ci serve per attaccare la base mentre dopo per mettere i cristalli dobbiamo usare il filo di nylon bene ora facciamo la base quindi prendiamo il nostro filo e dobbiamo fare un anello magico ora facciamo l'anello magico così io faccio così e andiamo a bloccare il nostro filo con una maglia bassa in questo modo e facciamo dieci maglie basse dentro al nostro anello prendendo anche questa codina qua mi raccomando una quindi due due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ora chiudiamo la nostra tiriamo la nostra codina qua per stringere l'anello in questo modo e andiamo a chiudere il cerchio con una maglia bassissima quindi prendiamo la nostra maglia prendiamo la prima maglia che abbiamo fatto in questo modo e chiudiamo con una maglia bassissima ed ecco qua il nostro cerchio ora dobbiamo andare a fare la lavorazione attorno e dobbiamo crescere con le maglie quindi facciamo prima una catenella andiamo nella prima maglia e facciamo una maglia bassa andiamo nella seconda maglia e facciamo due maglie nella stessa maglia precedente che abbiamo fatto poi subito dopo una maglia nella quella dopo due maglie questo serve per tenere ben disteso il nostro la nostra base facciamo due maglie nella stessa poi una due maglie nella stessa una due maglie nella stessa una e chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima in quella dopo e qui abbiamo fatto un giro dobbiamo allargare ancora quindi cosa facciamo facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto adesso catenella una due qua una due qui e facciamo così per altri due giri ok dopo aver fatto tre giri sto chiudendo l'ultimo giro con delle maglie bassissime per fare il giro un po' più bellino anche se poi dopo andremo a metterci le nostre perline sopra però nel caso si vedesse almeno è rifinito bene voi potete fare poi largo quanto volete la base io ho fatto tre giri ma potete farne anche quattro secondo come volete grande l'anello e arrivata alla fine chiudo tocco e taglio il filo ho tagliato quello ho sbagliato taglio e chiudo con un nodino e questa è la nostra base che andrà qua sopra ora porto il filo dentro chiudo lo porto sotto faccio un nodino e tiro ora sono vicino all'altro filo e chiudo con dei nodi intanto questo andrà sotto faccio un nodo così sono sicura che i punti non escono ora prendiamo i nostri cristalli li mettiamo casuali non devono essere proprio precisi c'è il colore uno mettiamo come viene prendiamo il nostro filo di nylon e andiamo a infilarci i nostri cristalli in questo modo ne potete anche prendere due tre per volta quanto volete io tanto mi vado a fermare il filo sotto in questo modo vedete e faccio un nodino con i due fili in questo modo così mi vado a bloccare anche il filo di nylon ora andiamo a inserire i nostri cristalli porto l'ago sopra io inizio dal centro ma voi potete iniziare dove vi pare e inizio a infilare alcuni cristallini io adesso ne infilo due tre per volta in modo da fare prima però voi potete inserire anche uno per volta volendo dopo poi tanto andremo ad aggiungere dopo se ci sono degli spassi vedete faccio così poi faccio faccio il cerchio chiudo e vado a sistemare in modo e poi vado a bloccare questi ripasso per stringere come li mettiamo li mettiamo non ha importanza se non volete mettere due tre per volta se non volete mettere uno per volta fate come credete meglio ora per bloccarli uno per uno passo vedete da un cristallo e poi porto giù di sotto in modo che si blocchi nel filo così tanto questo è filo trasparente poi non si vedrà niente quando saranno tutti i cristalli su vedete che li sto bloccando poi nel mezzo metterò un altro cristallo per non lasciare il buco questo modo poi vado bloccare sotto e torno sotto attenzione non intrecciare il filo perché altrimenti dopo viene male vedete ora vado di qua prendo su vedete questi li abbiamo messi però possiamo fare anche così portiamo il filo sopra ci prendiamo un cristallo lo andiamo a inserire così e continuiamo in questo modo portiamo il filo sopra cristallo e inseriamo questo è uno per volta se vi trovate meglio inserire uno per volta fate così bene io adesso vado a riempire tutta la base e poi dopo ci vediamo ok abbiamo quasi finito ora dobbiamo attaccare questa la base prima vi avevo detto di lasciare attaccato il filo nel lago della lana ma in realtà lo attacco sempre col filo di nylon quindi andiamo a tagliare questo filo qua e andiamo a inserirci vedete il mezzo dove abbiamo cucito quindi andiamo così e andiamo ad attaccarci la nostra base tonda io in realtà lo attacco con il filo di nylon perché vado a inserire altre perline per farlo un po' più bombato cioè metto delle perline anche sopra a dove le sono andate in questo modo vedete così lo faccio più bombato e prendo anche il sotto vedete poi un po' facciamo sopra e facciamo anche un nodino sopra tanto non si vede il filo di nano ok andiamo a tagliare il filo andiamo a tagliare anche questo ed ecco qua il nostro anello fatto vedete? bellissimo a me piace molto bene questo è tutto se il video vi è piaciuto e l'idea vi è piaciuta mettete pollici in su iscrivetevi al mio canale per avere altri video per avere le notifiche di quando carico altri video spero di essere stata chiara scusate per è la prima volta che faccio il video su un bijou tessile e non è facile per far vedere proprio tutti i passaggi ma cercherò di di fare meglio le prossime volte perché ne farò altri perché questa tecnica mi piace abbastanza e niente per ora è tutto io vi saluto e grazie per aver visto il video ciao ciao